bello è bello il panchetto su cui mi vedete sedere quest'oggi è nuovissimo è alla nuova gamma di genius panchetti genius che hanno già fatto storia che abbiamo visto in molti filmati però questa è veramente una gamma innovativa si chiama genius x36 x36 nel suo nome x36 ci sono già due delle caratteristiche principali di questa serie di nuovi panieri panchetti x perché il telaio in alluminio ha una forma rinforzata ad x quindi ancora più solida e in grado di sopportare presi importanti di quanto non fosse la vecchia gamma il telaio a x viene poi arricchito da delle zampe di diametro maggiorato e qui il nome 36 36 sta per 36 mm che è il diametro delle gambe maggiorato rispetto alla vecchia gamma di panieri genius ovviamente gambe in alluminio di sezione circolare che si innestano nel telaio a x in un punto dove la gamba viene avvolta completamente da una morsa che attraverso un pomello di facilissimo appiglio diciamo di facilissimo utilizzo riesce a bloccare completamente nella posizione che vogliamo questi queste gambe è un paniere che è perfetto ovviamente sui moli ma grazie ai piedini estremamente larghi e orientabili si addice anche alla pesca dalla scogliera allungando abbassando le gambe nella posizione giusta e ordinando il piedino riusciamo adattarci a qualsiasi substrato anche allo scoglio un paniere estremamente solido estremamente robusto ma estremamente leggero incredibile ma vero tutta questa solidità ha un peso che nessuno si aspetterebbe quindi vi consiglio quando andate in negozio di sollevarlo e stupirvi così come mi sono stupito io la serie di panchetti genius x36 si confà di cinque modelli questo in particolare è il brx che vanta uno schienale uno schienalino questo modello però lo trovate in commercio senza l'elemento centrale perché perché tutta la gamma può essere personalizzata così come ho fatto io io ho aggiunto un modulo della doppia cassettiera che mi permette di avere tutto quello che ho a disposizione sotto il mio sedere dal punto di vista della capienza il modello in questione ma anche da parte degli altri modelli hanno un enorme vano sotto che consente di inserire alloggiare tutto quello di cui abbiamo bisogno infinita l'accessoristica compatibile con questi nuovi panchetti io ad esempio ho inserito una vaschetta due portacanne in eva ma vi garantisco che potete metterci pedane ci potete mettere altri elementi potete metterci vassoi laterali insomma chi ne ha più ne metta un panchetto veramente ben realizzato che nei prossimi anni farà parlare decisamente di sé